l'avete eliminato voi l'avete eliminato voi perché ma perché era armato però questo non so se c'è altro che si controlla ok vieni couta vieni couta tempo allora tranquilli tempo c'è questo codice qui poi paolo lì che c'è brasilia che c'è un no è quello lì il codice è quello lì ragazzi ho provato un po per se c'è un conto della penna allora dici da quel codice 3 8 8 5 7 3 3 e si sposta allora occhio dentro si spara faccia così guarda a me Occhio anche alle tendine Non c'è scritto niente C'è solo niente dell'entrata Si c'è una maschera qui Che cazzo è? E' legato non sai che è legato Non l'incalcio Mi sembra di capire che è legato Sento... Ma che fa sto tutto? Sta partendo Però sembra legato Fammi guardare Occhio lì c'è un pochino Qui se si lavora comunque la roba lì per farlo Che fai? L'amalettiamo? Eh bisogna che sia legato a me E' legato E' legato Allora 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 Allora